Lo so che è di più lontano da una segreteria di partito, è uno strumento che consente di allargare la partecipazione, di coinvolgere il cittadino direttamente nelle azioni e attività della politica. Il tassello che aggiungiamo oggi e che domani sarà completamente funzionante sul Rousseau, è appunto il capitolo che riguarda la condivisione degli atti per consiglieri regionali, consiglieri comunali, sindaci e ci auguriamo futuri presidenti di regione. Abbiamo creato sostanzialmente, grazie a Roberto Casaleggio e a Davide Casaleggio, una realtà, un ecosistema nel quale i nostri eletti possono scambiarsi informazioni e rafforzare la propria azione politica attraverso l'intelligenza collettiva. Qui non c'è niente di cerchio magico, al massimo possiamo definirlo un sistema operativo magico, qualcosa di nuovo, qualcosa che cambierà il modo di fare politica in questo Paese e sono sicuro che sarà copiato da tanti altri. Gli errori che sono stati fatti a Roma, poteva essere evitato con questo tipo di approccio metodologico, grazie. Non è una questione del singolo comune, è sicuramente la consapevolezza che più c'è condivisione nel movimento e più si è forti e questo vale sia per il movimento ma sia per la politica generale italiana e quindi non rispondo sul singolo caso ma esprimo un concetto generale, più c'è condivisione e più si è forti.